ciao benvenuti in questo nuovo video oggi faremo una ricetta veloce la pasta da grigia iniziamo facciamo rosolare il gonciare intanto ci ho messo sull'acqua per la pasta mettiamo da parte i ciccioli buttiamo la pasta mettiamo un po di acqua di cottura nella padella dove abbiamo lasciato il fondo dei ciccioli facciamo così per creare un po di calzina tiriamo via la pasta due minuti prima di fine di cottura questo lo facciamo perché l'acqua di cottura ci servirà poi per risottare la pasta finiamo la fiamma aggiungiamo il pecorino romano e per ultimo aggiungiamo il nostro guanciale ci vediamo per l'assaggio like iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici questa è la torta di fatti e biscottate in cui avevo fatto il video qua provate la ricetta intanto ora passiamo l'assaggio buonissimo delizioso buonissimo delizioso